per le vostre aggiunte, considerazioni, tutto quanto lasciatemi dire, proprio riprendendo il filo che Alberto ha lanciato che io veramente sto riscontrando con mano come questo cambiamento di cui forse troppo poco si parla questo cambiamento positivo sia in atto cioè rispetto davvero ad alcuni anni fa rispetto ad alcuni anni fa ci sono dei concetti, delle idee che ormai sono diffuse sono patrimonio o collettivo direi uno, le risorse sono limitate, sono finite qualcuno che ha un senso dei limiti ma ormai voglio dire è abbastanza fannaggio di tutti che se si distruggono gli alberi di un parco e qui il riferimento non può che andare in questo momento poi stando, le alberi di un parco ovviamente beh è un qualcosa che poi non c'è più e per ricostituire quegli alberi no, non si può più fare se lì ci viene un'altra cosa quindi il senso che non si può buttare via non si può più pensare che le risorse anche